Buongiorno miei cari, buongiorno a tutti. Oggi si parte ancora più presto del solito perché si va fino a Grosseto. Iniziamo così questa settimana, buon lunedì. Però vi devo chiedere tanto sostegno, tanta preghiera, tanto pensiero perché oggi vado a Grosseto dove pomeriggio alle 17 sarò nel polo universitario appunto dell'università e spero davvero di incontrare tanti amici della Toscana. Ma poi domani si va a Roma nella parrocchia Sant'Alfonso Maria degli Uori dove alle 16.45 terrò un incontro con la presentazione del libro Le vie di Maria e poi a seguire la Santa Messa. Quindi invito tutti gli amici di Roma, tutti gli amici del Lazio a questo momento di preghiera perché quando sono venuto ci siamo visti sempre nelle librerie ma pregare insieme, dire la Messa insieme è tutta un'altra cosa perché la Messa è la preghiera più bella che noi possiamo elevare al Signore e Lui come dono scende e si fa Eucharistia quindi vi aspetto ma voglio raccontarvi anche oggi una storia la conoscete la storia delle tazzine da caffè? Non la conoscete? E ve la racconto io C'erano in una scuola tanti professori e ognuno di loro aveva determinate posizioni Il professore più anziano, il decano del collegio l'invita un pomeriggio a bere un caffè in santa tranquillità lontano da registri, lontano da compiti da correggere lontano da consigli di classe, incontri con i genitori eccetera 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 Dopo i convenevoli seduti nel salotto di casa del professore anziano cominciano a dire tutto l'elenco delle cose che hanno fatto i loro lavori, i loro traguardi, le loro interviste i loro successi, le pubblicazioni A un certo punto spunta nel salotto l'anziano professore con un bel vassoio, una caffettiera grande con il caffè e tante tazzine, quanti erano i docenti nel salotto tutte di forme diverse alcune raffinate, dipinte, altre di plastica, altre semplici Il vecchio professore poggia il vassoio sul tavolo e dice bene, servitevi da soli, ognuno scelga la tazzina che vuole Così, subito, cominciarono a bere il caffè Ma quando vide che tutti avevano la tazzina in mano del caffè il vecchio insegnante cominciò a dire Bene, come avete visto le tazzine più belle, più decorate sono state scelte per primo e alla fine gli altri si sono dovuti accontentare della tazzine più semplici, più insignificanti Ma voi non avete capito una cosa Il caffè è uguale per tutti Voi però che dovevate concentrarvi sul caffè vi siete concentrati sul contenitore Qual è la morale di questa storia? Spesso noi ci concentriamo sull'esteriorità sulle cose superficiali sulle cose esteriore che sembrano banali ma non ci concentriamo sul bello che abbiamo La vita è vita per tutti Concentriamoci su di essa e facciamo di questa vita un dono Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Voglio affidare questo giorno alla protezione di Maria per me e per voi Ave Maria piena di grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta Amen E ora accogliete la santa benedizione Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen E mentre io vado a prendere il treno voi iniziate le vostre giornate continuatele sempre con il Signore e con Maria accanto e ricordatevi di pregare per me E allora pomeriggio ad incontrare gli amici di Grosseto e della Toscana Un bacio